I luoghi dello spaccio sono quelli già tristemente noti, Nibionno, Costa Masnaga, Garbagnate e Barzago, i boschi della droga con i pusher reperibili 24 ore su 24. Operazione della squadra mobile della questura di Lecco in Raida, visto impegnati una cinquantina di agenti con l'ausilio del reparto prevenzione e crimine di Milano e l'unità cinofile a coordinare le indagini in sostituto procuratore Paolo del Grosso. Emesse nove ordinanze di custodia cotelare in carcere, cinque le persone finite in manette, e marocchini irregolari tra i 20 e i 30 anni spacciavano cocaina, eroina e hashish. C'era la sentinella, chi tagliava e confezionava la droga, chi consegnava lo stupefacente al cliente, il suo dalizio, in base a quanto emerso dall'attività investigativa, agiva rotazione in gruppi di almeno tre persone. Nel corso del blitz è stato arrestato un marocchino in fragranza di reato e sono stati sequestrati circa 70 grammi di cocaina, 30 di eroina e 30 di hashish, tutti già suddivisi in dosi pronte alla vendita, bilancini di precisione e un macete. Un'indagine durata da marzo a luglio di quest'anno che ha permesso di accertare circa 12.000 cessioni di cocaina per un peso pari a oltre 7,5 kg, 315 cessioni di eroina per un peso di 300 grammi e oltre 1.750 cessioni di hashish per oltre 2,5 kg. Il giro d'affari era di più di mezzo milione di euro, identificati 1.500 clienti. L'operazione ha portato complessivamente alla cattura, considerando tutti gli arresti fatti quel giorno e considerando gli arresti in fragranza, di sei soggetti totali. Sono ancora in corso delle indagini per individuare la restante parte della batteria. In tutto sono altri cinque soggetti da individuare che stiamo sicuramente cercando con tutto l'impegno del caso. Nel corso del blitz è stato arrestato un marocchino in fragranza di reato e sono stati sequestrati circa 70 grammi di cocaina, 30 di eroina e 30 di hashish tutti già suddivisi in dosi pronte alla vendita, bilancini di precisione e un macete. Un'indagine durata da marzo a luglio di quest'anno che ha permesso di accertare circa 12.000 cessioni di cocaina per un peso pari a oltre 7,5 kg, 315 cessioni di eroina per un peso di 300 grammi e oltre 1.750 cessioni di hashish per oltre 2,5 kg. Il giro d'affari era di più di mezzo milione di euro, identificati 1.500 clienti.